Amici di Team Keys Culture abbiamo un grandissimo e graditissimo ospite che ci parlerà di comunicazione attraverso la sua esperienza trasversale non solo in termini di durata ma soprattutto di longitudine quindi parleremo di quella che porremo una grande attenzione su quella che è la parte comunicativa all'interno delle sue esperienze in giro per il mondo. Grazie mille per essere ancora nostro ospite a Luca Banchi e benvenuto. Grazie a te Massimo e buonasera è un piacere essere qua e condividere esperienze. Luca partiamo subito con la prima domanda nella preparazione della partita quali sono secondo te dei punti da toccare in termini di anche quantità cioè quante devono essere quale deve essere quanto deve essere grande il flusso di informazioni da condividere con la squadra in una preparazione di una partita. Ci tengo a premettere che ogni squadra professionistica ha una sua routine una sua schedule no quindi un programma settimanale che prevede uno piuttosto che due o nel caso delle squadre di Eurolega addirittura tre partite all'interno della stessa settimana. E questo puoi facilmente renderti conto che ha una valenza determinante sulla quantità e la tipologia di informazioni che un allenatore può o deve somministrare alla propria squadra. Negli anni ho accumulato esperienza attraverso la possibilità di misurarmi in contesti diversi quindi posso dire di aver toccato tutte le situazioni compresso adesso una nazionale capita soprattutto in manifestazione di dover giocare addirittura tutti i giorni. Quindi farlo per due, tre, quattro giorni consecutivi e allora questa esperienza ti insegna come tarare la quantità e la tipologia di informazioni con la squadra. Non posso prescindere dall'idea di preparare la mia squadra, quindi questo è un punto di riferimento essenziale. Mi piace l'idea che la squadra entri in campo preparata, che abbia un suo piano partita e che attraverso il tempo di cui hai avuto a disposizione e tu possa essere riuscito comunque a trasferire concetti che abbiano omogenizzato l'approccio di ognuno degli elementi che fanno parte della squadra. Va sicuramente analizzato come lo staff tecnico generalmente e tendenzialmente sopporti un carico di informazioni ben diverso, quindi ho sempre preteso da me stesso e dai miei collaboratori un volume di lavoro importante e un volume di informazioni importante, che poi noi abbiamo avuto l'obbligo di selezionare in modo tale da renderli fruibili alla squadra, ai giocatori. Capisci benissimo che il livello di attenzione non è poi così alto, quanto generalmente ai giocatori piace l'idea, specie ad alto livello, l'idea di non essere esasperati dallo scouting riguardo ai propri avversari, quanto l'idea comunque di cercare di imporre il proprio gioco e di imporre il proprio stile. Quindi quello che io ho sempre chiesto ai miei collaboratori è quello di raccogliere sì informazioni sugli avversari, ma al tempo stesso anche cercare di capire nel minor tempo possibile come determinate caratteristiche possano sposarsi con il nostro stile, il nostro sistema. Quindi buona parte del lavoro dei miei collaboratori è concentrato sulla previsione di ciò che i nostri avversari possano fare o quello che noi potremmo pensare di fare per mettere in difficoltà i nostri avversari. E quindi lì il concetto, provando a fare una sintesi, quello è il concetto di advanced scouting, quindi cercare di scoutizzare in anticipo quelle che potrebbero essere le situazioni che si creeranno in campo e di conseguenza facilitare il compito dei propri giocatori. Non mi piace il fatto di abbondare nelle informazioni, cerco di essere quanto più possibile sintetico. Il mio piano partita generalmente si sviluppa su sei punti, tre di natura offensiva e tre di natura difensiva. L'ordine spesse volte è determinato dalle priorità che io ho scelto nell'approccio a quella gara e anche in considerazione del momento che stiamo vivendo, quindi alla luce di quanto sta accadendo e quello che è il flusso di rendimento della squadra. Lo stato di natura tecnica, tattica e psicologica, questo mi permetterà di decidere quali sono le priorità, ma cerco sempre di impormi di non andare oltre questi sei punti, perché come nel caso delle immagini video, ritengo che ci sia un limite di comprensione e di accettazione da parte della squadra del tuo piano partita. Quindi abusare di concetti spesse volte può determinare un senso di assuefazione e abbassare i livelli di attenzione e di ascolto. Si gioca molto su questi aspetti e si toccano dei punti che sono legati sia all'informazione che si può diluire nell'arco della settimana, nel pre-post allenamento, addirittura durante l'allenamento. Mi sono trovato, come ad esempio è caduto lo scorso anno, lavorando a Pesaro con la necessità di giocare solo una volta alla settimana. Questo mi permetteva di diluire le informazioni attraverso un numero piuttosto elevato di allenamenti. E mi è capitato talvolta addirittura di fare delle riunioni con la squadra, sia nel pre-post allenamento, ma talvolta anche durante allenamento, con dei brevi filmati, poche clip, che precedevano ad esempio un'esercitazione pratica agonistica sul campo. Questo per agevolare il loro compito in termini di comprensione e di adattamento alle situazioni. Ma come detto, quando giochi solo una partita alla settimana, questo semplifica il compito dell'allenatore, che però dovrebbe imporsi di non abusare di informazioni, perché come detto poi si corre il rischio, soprattutto pensando di proiettarlo nell'arco di un'intera stagione, o addirittura di una stagione che prevede un post-season, quando poi veramente è importante la mano dello staff tecnico per andare a correggere dettagli. Questo è una tipologia di atteggiamento che devi costruire nel tempo, arrivando gradatamente al punto che i giocatori abbiano una comprensione adeguata. Come stile mi piace costruire ad esempio un linguaggio comune, quindi mi piace lavorare molto anche sulla terminologia, che sia una terminologia chiara, che abbia un suo stile, e questo agevola anche la comunicazione nella preparazione di una gara, ma anche nei momenti di massimo stress, come possono essere la partita stessa, quando devi parlare con i tuoi giocatori, l'intervallo di una gara, se non addirittura i time out. E quindi avere questa tipologia di comunicazione molto diretta, attraverso un linguaggio comune, migliora sicuramente il tuo lavoro, perché puoi pensare di sintetizzare concetti con poche parole, molto brevi, molto ficcanti, molto incisive. Quindi questo è un aspetto sul quale insieme al mio staff mi piace lavorare, fin da subito, fin dal precampionato, in modo da creare appunto questa terminologia comune, e poi pian piano costruire anche delle abitudini, legate appunto alla capacità di comprendere determinati messaggi, che possano arrivare attraverso, non so, un file, piuttosto che un video, o semplicemente un suggerimento durante l'allenamento, bene, i giocatori devono imparare a recepire questa tipologia di informazione e poi trasformarle sul campo, perché poi la sintesi è quella, cioè non è quanto sai, ma quanto realmente sei nelle condizioni, hai la capacità di trasmettere ai tuoi giocatori. Quindi questo, diciamo, è un po' l'idea di fondo. Allora concentrarsi su pochi punti, in modo tale che la condivisione del piano partita sia su questi aspetti e poi i mezzi su come trasmettere questi punti meritano sicuramente un approfondimento, come detto. Nel mio caso ho abitudine a lavorare appunto con file video, clip, filmati che mi impongo che abbiano sempre una durata che non superi ad esempio i sei minuti. Mi piace più l'idea di magari ripetere più filmati piuttosto che di farne troppo lunghi, con il rischio che questo possa abbassare il livello di attenzione della squadra. Mi piace anche condividere del materiale, ad esempio nella chat di squadra, quindi abitualmente lavoriamo su piattaforme social che sono in uso comune e mi piace anche off record condividere qualcosa che mi possa aiutare anche nella preparazione della gara sia per quanto riguarda il piano partita generale che un piano più specifico legato a quel giocatore e al suo ipotetico avversario della partita successiva. Quindi ecco questi sono quei piccoli espedienti dal punto di vista comunicativo che cerco di utilizzare per cercare di creare sintonia con la squadra. Però sempre nell'ottica che io e i miei collaboratori ci carichiamo del peso più importante in termini di quantità per essere poi capaci di selezionare, analizzare, selezionare e somministrare alla squadra quanto necessario e veramente strettamente indispensabile per comprendere la direzione della nostra partita. Sei stato chiarissimo e penso che spesso i non addetti ai lavori non sanno quanto lavoro ci sia dietro ma gli stessi giocatori non abbiano la reale percezione di quanto lavoro ci sia dietro a una riunione su un video di sei minuti o come giustamente dicevi una comunicazione che potremmo definire la tua comunicazione è una comunicazione da definire efficace fondamentalmente perché deve avere l'obiettivo di arrivare ma dietro a quei famosi sei punti in realtà che cosa ci sia dietro non solo in termini di raccolta di informazioni ma anche e poi ovviamente è quello il vero valore aggiunto dell'allenatore la capacità di analisi nel capire quali sono gli aspetti più importanti da andare a toccare dicevi tra l'altro un passaggio secondo me molto importante che non è solo una questione tecnica è il momento della squadra che può portare ad avere come priorità avere un livello di attenzione su un dettaglio magari meno importante in un altro momento della stagione ma che in quel momento invece può ricreare delle buone abitudini riportare la squadra in un determinato livello di intesa, di coesione su determinati aspetti che poi come spesso accade un semplice dettaglio può fare un'enorme differenza anche solo all'interno della stessa partita quindi penso che hai e per esperienza ti dico non è mai semplice ottenere lo stesso livello di esigenza e di autoesigenza con i giocatori perché ci sono momenti nei quali riesci a inanellare strisce di vittorie che portano con sé fiducia, autostima ma il rischio anche di creare assuefazione o comunque adattamento e non sentire più il bisogno di lavorare con l'adeguata intensità aggressività e il rischio appunto magari di sottovalutare l'impegno successivo così come ci sono momenti viceversa particolarmente difficili dove in anelli sconfitte e come allenatore devi avere la capacità di ricostituire la fiducia e l'autostima che permetta alla squadra di approcciare le partite successive con un inalterato e addirittura superiore desiderio di volersi mettere alla prova dimostrare e ottenere i risultati che le possono aiutare a cambiare un po' direzione quindi esiste questo momento e strategicamente un allenatore ha il compito ha il dovere di utilizzare la comunicazione per anche consapevole che possa esserci uno stato mentale diverso nei propri giocatori e quindi un livello di ascolto un livello di attenzione diverso queste sono strategie sui quali con le quali quotidianamente ti devi misurare come detto prima perché effettivamente per noi la sfida è quotidiana ogni giorno che entriamo in palestra dobbiamo sentire il desiderio di riuscire a tenere il meglio e la miglior versione possibile dai nostri giocatori con la consapevolezza che riuscire a collezionare anche piccoli progressi ma continui è l'unico modo per riuscire ad aspirare a portare la squadra ai livelli adeguati e magari addirittura superiori a quelle che possano essere le previsioni nell'attesa però è un mind game cioè un gioco mentale soprattutto che richiede energie assorbe tantissime energie ma estremamente stimolante forse uno dei motivi per cui continuiamo a fare questo lavoro con la passione che ci contraddistingue a dispetto di tutto di quanto possa succedere poi vedi questi sono aspetti che hanno un fascino unico particolare e rendono il nostro lavoro uno dei più belli al mondo sicuramente ovviamente comunicazione efficace e sei stato chiarissimo nella tua idea l'autoesigenza e anche qui secondo me hai toccato un punto importante che è quello comunque di avere la sensibilità di capire sia dal punto di vista comunicativo sia dal punto di vista dei contenuti quando la squadra ha bisogno di ricevere un determinato tipo di input di impulso però chiaramente penso che nelle tue esperienze di altissimo profilo l'autoesigenza che portano in palestra i ragazzi sia altrettanto importante cioè tu sicuramente hai nella tua leadership ma anche nel tuo ruolo il dovere chiamiamolo di portare di alzare questo livello di autoesigenza però penso che all'interno di un gruppo di lavoro con degli obiettivi comuni da raggiungere ci sia bisogno che c'è una parte quello che voglio chiederti è da una parte penso che si possa provare a spingere dall'altra qualcosa devono avere dentro loro cioè non può essere qualcosa semplicemente di imposto sì partiamo da un concetto molto semplice quello dell'esempio ok io questo lo dico anche per questioni culturali di educazione io sono cresciuto in una famiglia normalissima dove mio padre era l'unica persona che lavorava a casa ma ho visto con quale con quale etica ha fatto il suo lavoro per tutta la vita con la priorità legata sicuramente all'esigenza di mantenere la propria famiglia quattro figli non c'è mai mancato nulla ma sai che tipologia di rinunce possa prevedere questo sono cresciuto in un ambiente di questo tipo e indipendentemente dal lavoro che avrei fatto in vita mia non avrei potuto ispirarmi se non al suo esempio ho memoria della sua assoluta autoesigenza disciplina il suo rigore che io poi ho cercato di trasportare in ogni ambito nel quale poi sono stato impegnato ho iniziato a fare questo lavoro presto non so quanto possa essermi distinto per talento per intuizioni per capacità ma se solo le persone possano riconoscermi un'etica di lavoro di alto livello questo mi darebbe grande soddisfazione con la consapevolezza come ti ho detto di aver attinto a un esempio di una persona che ha inciso quanto più di ogni altra sulla mia educazione quindi questo ritengo che sia il mio approccio quindi ho sempre ritenuto di dover dare l'esempio di cosa significhi essere esigenti con se stesso prima o poi di esserlo con gli altri ok ovviamente poi ti confronti con persone che hanno un livello di capacità diverse lungo il mio percorso ho incontrato grandi campioni ai quali ho rubato tanto grazie a loro ho saputo modificare e adeguare il mio metodo di insegnamento ma è ovvio che mi sia ispirato a giocatori che sono riusciti a trasmettermi ancora più di quello che fosse nelle mie capacità a fare quindi mi sono misurato con campioni assoluti che hanno dimostrato sul campo non soltanto di avere grande talento ma avere questa assoluta disciplina di non sentirsi mai soddisfatti del livello raggiunto ma avevano questa capacità di rigenerare le proprie motivazioni ricordo il ciclo di Siena sette anni sette scudetti quando torni in campo e hai inalterata se non addirittura più fame e desiderio di metterti alla prova con la consapevolezza che i tuoi avversari saranno pronti ad adeguare le proprie armi e la loro forza a quelle che sono le tue caratteristiche quindi l'idea di ogni anno rinnovarsi e dare nuovo impulso nuovi stimoli e cambiare ancora il punto di riferimento ai tuoi avversari non ci saremmo mai riusciti se non avessimo avuto accanto persone speciali e come detto giocatori e grandi campioni con un livello di autoesigenza elevatissimo io quando non l'ho riscontrato naturalmente in loro ho cercato di inculcarlo tramite l'esempio e quindi dimostrando che una squadra preparata non può prescindere da uno staff preparato e quindi ho sempre cercato di inculcare nei miei collaboratori questa tipologia di atteggiamento non perché fossimo maniacali ok perché poi il gioco ha tante sfaccettature però e questo ad esempio ho provato anche a trasmetterlo ai giovani allenatori che mi hanno chiesto negli anni consigli su quelle che potessero essere le cose importanti o le priorità nel fare questo lavoro e per me la preparazione è indispensabile non riesco a pensare ad un allenamento non programmato non pianificato al di là della capacità che un allenatore deve avere poi di adattarsi alle circostanze perché può succedere di tutto ricordo l'episodio di Massimo Cancellieri che è stato mio collaboratore in una delle mie prime esperienze ricordo allenavo la nazionale militare a Vigna di Valle e lui era un giovanissimo allenatore alle prime armi all'epoca allenava credo a Roma nel femminile noi ci stavamo allenando a Vigna di Valle e lui venne a vedere un allenamento della nazionale militare io ero capo allenatore stavamo facendo allenamento la caserma di Vigna di Valle è un bell'impianto ma con soli due canestri poi si parla insomma di paleo basket quindi si parla dei primi anni 2000 si rompe un canestro e noi continuiamo a fare allenamento senza un attimo di esitazione senza poterlo cambiare ma semplicemente aggiustando le esercitazioni e lui ancora anni di distanza dice Luca io mi sono sempre ispirato a quello che ho visto quel giorno cioè la tua capacità di adattamento ha una circostanza e questo è quello che io ho sempre definito l'antifragilità di un di un allenatore che non deve essere resiliente perché il resiliente finisce poi per cambiare forma cioè scusa per assorbire lo shock però poi mantenere la stessa forma invece l'antifragile a fronte dello shock trova la soluzione e diventa più forte di prima capito quindi l'idea è quella di riparare la frattura ma acquisire un patrimonio tale che ti faccia sentire più forte di prima e questo è qualcosa che poi puoi trasmettere alla tua squadra l'antifragilità meglio ancora della resilienza e allora essere preparati indispensabile essere capaci di rispondere alle circostanze che si possono verificare altrettanto perché non puoi avere un solo piano non puoi avere una sola direzione perché poi il nostro lavoro ci insegna che in gara le cose cambiano in un attimo e non tutte possono essere programmate e pianificate a me piace essere pronto preparato però è altrettanto affascinante essere capace di adattarsi cambiare come ti ho detto dimostrarsi antifragile prima di tutto grazie per aver condiviso qualcosa di personale parlando della tua esperienza di ragazzo il tuo punto di riferimento a casa quindi grazie e penso poi che oltre agli aneddoti che coinvolgono anche cancer quindi salutiamo anche cancer con l'occasione anche cancer dall'emoz esatto penso che anche quello che hai detto volendo esprimere un concetto un po' più filosofico però in realtà sia qualcosa di molto 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 interessante su cui fare dei ragionamenti sul fatto della capacità di adattamento che ogni allenatore deve avere e che ogni esperienza deve portare anche non solo alla risoluzione del problema che si viene a proporre ma anche soprattutto a strutturarsi per essere migliore dopo essersi imbattuti in una nuova problematica quindi penso che questa sia una delle missioni quando si parla di un allenatore della sua evoluzione giustamente hai detto non puoi pensare di non preparare qualcosa di non essere pronto ad affrontare qualcosa però la sfida e come dicevi prima forse è proprio anche il bello di quello che facciamo essere pronti a sfidarci su un nuovo campo in una situazione che magari non si era mai palesata prima ed essere pronti ad arricchirci attraverso la soluzione di questo nuovo di questa nuova situazione che si viene a creare quindi grazie ovviamente grazie volevo chiederti questa cosa Luca attraverso le tue esperienze non parlo temporali parlo adesso parliamo longitudinali quindi nelle tue esperienze ovviamente di alto profilo in Italia hai parlato di Siena ovviamente il tuo passaggio a Milano altre realtà italiane però hai avuto hai avuto esperienze estere a varie latitudini compresa l'America come ovviamente tu da allenatore porti il tuo sistema la tua idea anche come si parlava prima di comunicazione efficace però la mia domanda è quando sei arrivato in questi posti che cosa invece hai trovato dal punto di vista della comunicazione diverso rispetto a quello che magari era già il tuo vissuto e quindi qualcosa che ti può avere arricchito qualcosa che andava tra virgolette anche modificato ecco in quella che era la tua idea ma diciamo che intanto ho avuto la l'esigenza di mettermi alla prova in contesti diversi nel senso che ad esempio la mia esperienza in Grecia piuttosto che in Russia ha previsto che io fossi l'allenatore fin dal precampionato mentre in Germania io sono arrivato a campionato in corso e questo cambia radicalmente nell'approccio che un allenatore deve avere nel modo in cui si dovrà proporre anche in termini di comunicazione perché perché quando ti misuri in un nuovo territorio a me piace pensare che tu debba avere una un metodo tu debba avere uno stile ma che non necessariamente tu conosca la direzione in cui andare o la direzione nella quale fino a quel momento si è andati quando hai modo di agire sulla costruzione della squadra la costruzione del tuo staff e sull'impostazione della stagione è ben diverso ma quando prendi un treno in corsa devi saperlo un po' controllare ok e la direzione io uso dire sempre la mappa la mappa la dà la mia capacità di sapere interpretare ciò che si è fatto e capire come questo possa essere implementato dalle mie conoscenze senza necessariamente stravolgere tutto e io questo è l'atteggiamento esempio che ho avuto quando in Germania ho avuto anche il privilegio tra virgolette di ereditare una squadra di altissimo livello una squadra di Eurolega che era il Bamberg con giocatori che avevo già allenato come Zisis e Hackett e questo è un altro vantaggio non da poco perché conoscevano me e il mio stile di lavoro e essere stato preceduto da un allenatore di assoluto livello come Andrea Trinchieri quindi io lavoravo su una base di lavoro già importante e allora cercare di accelerare il processo di conoscenza di ciò che era stato fatto per avere una mappa per poi scegliere il sentiero che io ritenevo il più opportuno per arrivare all'obiettivo e poi ci sono come ti ho detto state stagioni in le quali ho avuto la possibilità di iniziare e questo ti dà la possibilità di incidere come ho detto sulla scelta dei giocatori sullo stile di gioco da poter giocare la lingua sicuramente è una barriera quando lavori all'estero perché questo può per certi versi rallentare un po' la comunicazione soprattutto all'interno dello staff e anche la cultura o l'approccio verso il lavoro è totalmente diverso aver lavorato in Germania e poi andare a lavorare in Grecia e dalla Grecia alla Russia sono salti paurosi si passa dall'assoluta efficienza a contesti nei quali vige un po' l'approssimazione e ancora per certi versi il dilettantismo dove magari ti devi misurare con tanti collaboratori la maggior parte dei quali fa pallacanestro con un impegno ben diverso dal tuo e con una disponibilità di tempo ma anche una disponibilità mentale ben diversa dalla tua e allora cercare di usare la propria leadership il proprio carisma per catturare comunque il loro interesse e far sentire in loro l'urgenza comunque di partecipare indipendentemente dalla quantità di tempo che ti possono dedicare e riuscire a farlo nel modo più efficiente possibile e più efficace possibile è stata una bella sfida in alcuni contesti come quello di Atene posso dire con successo in altri come quello di Kuban decisamente con meno successo l'esperienza che sto vivendo adesso in Lettonia è una esperienza che mi sta dando grandi soddisfazioni anche sotto questo profilo ma partendo da un livello di disponibilità di sensibilità e di capacità di ascolto superiore alla media e ho investito molto sull'etica di questo popolo e di questi giocatori alcuni dei quali già conoscevo non per averli allenati magari per informazioni raccolti dai loro allenatori quindi hanno questa capacità e quindi un'allenabilità tale che ti permette un po' di incidere anche sullo stile sull'identità che vuoi dare a questa squadra il nostro lavoro non si ferma alla comunicazione con i tuoi dieci dodici giocatori ma come ti ho detto c'è uno staff da coordinare nella maggior parte dei casi io mi sono trovato a lavorare come unico italiano all'interno dello staff o l'unico non indigeno all'interno dello staff come era accaduto ad Atene io ero l'unico non greco all'interno di tutta l'organizzazione quindi queste sono tutte situazioni che ti mettono alla prova ma sono estremamente probanti stimolanti però possono poi darti grandi soddisfazioni e quindi io ho cercato di capire dove mi trovavo ho cercato di studiare molto il contesto non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche come ti ho detto sociale culturale per cercare di definire la mappa attraverso la quale muovermi all'interno di un territorio che spesse volte mi era sconosciuto perché insomma io mi sono avventurato in situazioni non esattamente di comfort perché una delle mie caratteristiche è sempre stata quella di complicarmi un po' la vita e quindi mi sono preso carico di diciamo missioni che non erano così semplici e scontate diciamo che non diciamo niente ma già a novembre potresti toglierti una grande soddisfazione ovviamente te lo auguro penso che il lavoro che stai facendo con la nazionale sia sotto gli occhi di tutti quindi chiaramente come dici tu l'essere riuscito non solo ad entrare in sintonia ma a creare quell'empatia anche non solo emotiva ma proprio tecnica come come lavoro di staff e anche allargando il tutto al tuo gruppo di lavoro anche al gruppo giocatori penso che insomma sia qualcosa non solo che ti sta portando degli importanti dividendi ma come dicevi una sfida che è stata era bella da affrontare e adesso lo sembra ancora di più beh sì quanto mi auguro accada siamo veramente ad un passo da centrare un risultato che sarebbe storico per il basket lettone totalmente inatteso perché io ho ereditato questa squadra sulla scia di due deludenti risultati e mancate qualificazioni al mondiale 2019 e a Eurobasket 2022 e nessuno pensava che questa qualificazione al mondiale potesse essere un obiettivo raggiungibile siamo partiti addirittura dalle prequalificazioni misurandoci con nazioni come la Svizzera la Romania la Bielorussia ad oggi siamo l'unica nazionale rimasta in gioco che è partita da un livello così basso siamo riusciti a scalare un po' il ranking le graduatorie ad oggi siamo leader del nostro gruppo stiamo mettendo dietro squadre come la Grecia la Turchia la Serbia il Belgio l'Inghilterra quale tipologia di sforzo stiamo facendo con un numero di giocatori veramente ridotto è cresciuta anche la credibilità agli occhi dell'opinione pubblica è una piazza che ad oggi è una nazione che ci sta seguendo in modo incredibile l'arena è sempre esaurita e quest'estate poi diciamo la perla della nostra avventura si è materializzata con la partecipazione dei nostri due giocatori NBA quindi Christophe Porzingis e Davis Bertans contemporaneamente insieme cosa che non succedeva oramai dal 2017 insieme nazionale e il risultato sono state due grandi vittorie e per me forse aver toccato il punto più alto della mia carriera perché quando hai la possibilità di stare in palestra con due giocatori di questo calibro capisci che sei riuscito a arrivare a un livello che al quale forse non avresti mai immaginato di poter di poter arrivare quindi al momento le cose stanno funzionando speriamo di continuare in questa direzione ci aspettano ancora quattro partite per noi tutte impegnative ma se affrontate con il giusto spirito e l'adeguato atteggiamento sono convinto che potremmo toglierci ancora delle soddisfazioni e sarebbe bello vedere la nazionale elettone al mondiale perché come detto sarebbe la prima volta nella loro storia l'idea di fare qualcosa di importante per una nazione che ha avuto il coraggio di affidarmi questo incarico per me sarebbe il modo migliore per ripagarli della fiducia che mi è stata accordata non posso che augurarti che il meglio debba ancora venire anzi in realtà sono convinto quindi è sicuramente quello che succederà io Luca non posso che ringraziarti ancora una volta per la disponibilità che mi hai concesso anche questa volta penso che per chi avrà il piacere di ascoltare questa chiacchierata tu abbia offerto veramente una serie importante di spunti interessanti soprattutto per gli allenatori di tutti i livelli però mi piace pensare che possano essere degli spunti interessanti per chi inizia come dicevi prima e quindi avere qualcosa su cui riflettere su cui provare a partire ma investire anche in quella che è la propria formazione quindi grazie ancora veramente per la tua disponibilità ho cercato Massimo anche ho cercato anche materialmente di aprirvi letteralmente le porte di casa mia parlando senza filtri come è giusto che sia tra noi colleghi al di là di quello che è il livello al quale si lavori uno dei motivi per cui io sono diventato allenatore di basket professionista è perché ho trovato lungo la strada allenatori che hanno avuto la generosità di condividere questo credo che sia un sentimento che ci debba contraddistinguere perché realmente trasmettiamo qualcosa alle nuove generazioni perché poi questo è un lavoro è un momento nel quale noi siamo soltanto affittuari perché in realtà appartiene alla prossima generazione quindi spero mio modo di aver contribuito a dare spunti che possano servire a rendere ancora più incuriositi non voglio dire interessati ma incuriositi quelli che fanno questo lavoro e come detto è un privilegio riuscire a farlo è qualcosa che dà delle emozioni e delle sensazioni uniche quindi è quanto di meglio possa auspicare augurare a un giovane che vuole iniziare il cammino non penso che sia scontato quello che hai detto quindi ancora una volta di più grazie perché hai voluto condividere senza filtri il tuo pensiero il tuo il tuo percorso anche che appunto non è solo in termini di durata ma è anche proprio in termini di longitudine hai avuto modo di toccare esperienze diverse e non so io sottolineerei per l'ultima volta anche quando parli di affrontare sfide che escono dalla propria comfort zone quindi qualcosa che ci metta alla prova per provare ad alzare ulteriormente il livello quindi grazie veramente per i tanti spunti e spero di vederti presto di persona prima che di rivederti su questi canali di sicuro un grandissimo in bocca al lupo per la finestra adesso di novembre e per tutto quello che potrà ovviamente riservarti il futuro grazie ancora grazie all'invito ciao ciao